Il procuratore capo del Tribunale di Livorno, Ettore Squillacce Greco, ha lanciato lo scorso 28 gennaio, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, un allarme rosso sull'alto numero di abusi e dirizi e di reati ambientali registrati in questi ultimi anni sullo scoglio. La fondazione Isola del Baon, se invece cosa fa, è preoccupata per un pestaggio avvenuto a Marina di Campo, dove un gruppo di 4 persone, quasi 3 straniere, ha aggredito un bulgaro di 30 anni, un fenomeno che statisticamente non ha dei numeri di rilievo preoccupanti, e a parte le liste tra ubriachi nei bar e nelle discoteche, l'elba può veramente definirsi un'isola felice. Gli abusi e dirizi e gli ecoreati sono agevolati dai colletti bianchi e vengono definiti white collar crimes, termine cognato dal sociologo americano Edin Sutherland, che definiva questo tipo di delitto come un crimine non caratterizzato da una violenza, ma commesso da un soggetto rispettabile, di elevata condizione sociale, in occasione della sua attività lavorativa. E anche noi abbiamo scovato un abuso edilizio a Marciana Marina, siamo andati alla Villa della Baronessa, un edificio imponente costruito a ridosso della spiaggia della Caletta, dove riusciamo, nonostante i cancelli e i cartelli che ne vietavano l'accesso, a raggiungere la villa. Scendiamo giù fino alla piccola insenatura composta da una spiaggia di ghiaia bianca e lì ci rendiamo conto dello scempio compiuto dai proprietari. Una roccia è stata sventrata per realizzare un solarium, mentre un barbecue in mattoni e cemento si erge a pochi metri dal bagnasciuga. Filmiamo tutto e inviamo una segnalazione al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Dopo alcuni mesi ci rispondono confermandoci che quelle opere non erano autorizzate, dunque era stato elevato un verbale dalla forestale che aveva effettuato un sopralluogo.